buongiorno eccomi qua sempre nel mio bellissimo bosco buongiorno dove adesso iniziano a vedersi tutti i fiorellini primaverili dove la natura inizia ad esplodere è bellissimo si sente questa atmosfera di inizio primavera e cosa c'è di meglio che iniziare questo periodo andando verso poi quella che sarà la bella stagione depurandosi da tutte le tossine o da una parte perché tutte sarà impossibile ma da una buona parte delle tossine che abbiamo accumulato durante l'inverno inevitabilmente anche perché come diciamo sempre si mangia in maniera più sicuramente più condita si ha meno occasione di muoversi si ha anche meno voglia perché le giornate sono più corte fredde voglia di uscire inferiore quindi il momento migliore proprio per eliminare tossine e per tornare in forma attraverso un esercizio fisico che può essere anche la camminata nel bosco o nel parco insomma in mezzo alla natura è proprio questo andare proprio a depurare infatti non a caso qui già vedo il tarassaco che è questo questo portento della natura che ci dà la possibilità veramente mangiato crudo è di una potenza per disintossicare incredibile soprattutto a livello di fegato e anche di intestino quindi è eccezionale da mangiare crudo fin tanto che è piccolo e poi si può cuocere e quindi la natura che non fa mai nulla a caso ci mette a disposizione delle piante che sono proprio adatte alla depurazione del corpo quindi abbiamo tanti strumenti tutti naturali e è un bellissimo regalo che facciamo al nostro corpo quello di arrivare poi alla bella stagione in forma non appesantiti perché poi il vantaggio è anche di quello di perdere due chiletti che magari si è accumulato durante il periodo invernale e questo semplicemente adottando uno schema alimentare di depurazione di drenaggio delle tossine di anche bere assumere frutta verdura cruda e si ottengono un sacco di vantaggi la pelle diventa più bella più tonica il colorito cambia si diventa in apparenza più sani no si vede la persona che che insomma sta bene dentro perché che che se ne dica le creme vanno bene ma è inutile mettere creme anche costose se poi dentro non ci si cura quindi se si sta bene dentro anche poi l'esterno si nota si vede la pelle più bella quindi vi faremo una depurazione di qui a breve i primi di marzo vi daremo dettagli probabilmente la faremo su due livelli per dare la possibilità sia principianti sia chi è più esperto nelle depurazioni nei digiuni e vi faremo avere notizie a brevissimo tanto vi auguro buona giornata oggi il sole non è così bello ma va bene lo stesso e a presto ciao ciao